Cari amici, siamo a Natale. Il mio pensiero raggiunge tutti voi, gli ammalati, le famiglie, i giovani, gli operai, i nostri ospiti, coloro che sono accolto nelle strutture, che sono alla ricerca di una nuova dignità di vita. Ma vi confesso che, come di consueto, l'augurio di un buon Natale diventa anche un po' difficile e prova un certo disagio, soprattutto al pensiero delle difficoltà sociali, familiari, lavorative, economiche, che attraversano tante persone del nostro territorio, soprattutto con chi deve fare i conti con una quotidianità attraversata dal disagio, dalla mancanza di lavoro, dalla mancanza di risorse e per tanti giovani anche la ricerca, una nostalgia di futuro che in questo momento sembra precluso. Allora, noi cristiani a Natale invece vogliamo proclamare anche la possibilità di una storia nuova, perché nel Natale, nell'incarnazione del figlio di Dio, la storia si riorienta verso un fine di salvezza. A Natale rinasce la speranza con la ferma convinzione che in compagnia di Dio è possibile cambiare il mondo, la storia, la persona, la famiglia e la politica. Solo l'oblio di Dio e il destino di una lontananza da Dio riserva l'amarezza e il fallimento più crudo. Al Natale vogliamo invece ripartire da questa centralità di Dio, in compagnia di Dio, che nel suo figlio Gesù si fa nostro compagno di viaggio. Questa consapevolezza, questa gioia mi consente ancora una volta di potervi augurare un Santo Natale.